Buonasera a tutti e benvenuti al completamento della missione dei compiti oggi siccome era una missione dei compiti mi sono attraverso la missione siccome questa è una missione da compiti mi sono messo l'abbigliamento da missione di compiti ok mi raccomando sempre gli occhiali perché a pallini poi si fa male questo è da soltare non è della vera vera perché dopo vuoi esplodere la vostra casa ma stai disto vediamo un po il compito d'inglese oggi era caricatore dell'M4 dai allora il compito d'inglese era oggi allora non cedo niente questi occhiali vai che io voglio anche cantire due cose di cinque tipi d'inglese ok colori e di cibo ok vai allora scrivi cinque colori che è red 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 che colore è? rosso pink rosa white bianco black nero si e sky blue celeste forte poi scrivi cinque cibi in inglese sempre eh apple mela bravo banana banana orange arancia yeah bread pane cake torta ok perfetto allora facciamo vedere sono già stanco facciamo vedere che lui ha fatto i compiti la partita solo è poi scritto in inglese mica in italiano da 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 allora noi intanto salutiamo scusa oh scusa guarda eh allora noi intanto salutiamo che andiamo a giocare con l'Xbox Perché ricordiamo che la Wii U a lui non gli piace più Ciao, ciao, alla prossima Ti sembra la moda? Ti sembra la moda? Ciao, ciao, saluta, ciao Ci vediamo, L di Larini L di Larini anche a voi, buonanotte